Musica Bella tutti picciotti, sono Stulo e oggi siamo in questo nuovo video vlog Come vi avevo detto su Instagram, che per chi non mi seguisse inizia a seguire su Instagram adesso, Andri Stulo E ho fatto un sondaggio dicendo se volevate dei video dove vi raccontavo le esperienze, le cose più ridicole e assurde che ho visto in discoteche Quindi dato che il sondaggio era andato anche molto bene, molti sì, e se mi ricordo ve lo metterò qua in sovrimpressione come era andato Ecco qua che vi racconto le cose assurde che ho visto questa settimana in discoteca Allora, una delle cose che ho visto venerdì dove lavoro io, ovviamente non faccio nomi né nulla perché sennò non avrebbe senso Però una delle cose che ho visto è stato il venerdì che è stata l'inaugurazione dell'estivo della mia discoteca E c'è diciamo una sorta di piscinetta In questa piscinetta cadono bicchieri, cadono cannucce, cade ghiaccio, drink, ogni tanto cadono anche non so borsette Venerdì è caduta una persona dentro quella piscinetta, meno caduta, non è caduta, si è proprio lanciata di testa perché poi è uscita una piscinetta bagnata completamente Era un ragazzo quindi bagnato completamente, proprio capelli piatti come dopo la doccia, camicia bianca bagnata e pantaloni fratti Vabbè, una cosa assurda Io ho quasi tre anni che lavoro lì, ho il terzo estivo che faccio, non mi era mai capitata come cosa Quindi cosa in più da aggiungere all'elenco delle cose che ho visto, che ho fatto e che mi ricorderò per anni e anni e anni e anni Un'altra cosa che è successa è stata sabato, una ragazza e un ragazzo si sono messi a picchiarsi Così Vabbè, eravamo lì io e un altro cameriere Affinché la ragazza picchia il ragazzo noi ci lasciavamo due risate Però il ragazzo poi inizia a picchiare la ragazza quindi interveniamo noi Almeno io lo spingo via No, 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 è la mia ragazza Complimenti, proprio bell'esempio E nulla, poi in tutto questo noi li abbiamo divisi e la ragazza non contenta prendeva pugni nel costato qua E in pancia a me e l'altro cameriere perché li abbiamo divisi Voleva essere lei a picchiare ma se fossero andata avanti li avrebbe presa Quindi lì già ci siamo un attimo rimasti Poi passa un'oretta e mezza e vediamo sempre la stessa ragazza che piange dove noi stavamo buttando le casse piene di vetro Loro io mi avvicino in totale gentilezza e tutte le faccio ma serve qualcosa, tutto a posto Le fanno, no, voglio restare sola Vabbè Poi vediamo che il butta fuori porta di lì il suo ragazzo, ex ragazzo Poi parlando con le amiche più o meno ho capito che si erano lasciati da poco Anche se secondo lui erano fidanzati da cinque anni Quella cosa lì non si è ancora capita Evidentemente neanche loro sanno bene cosa sono Però vabbè e vediamo che lei inizia a piangere ancora più forte Allora mi riavvicino e mi faccio sicura non ti serve niente, una bottiglietta d'acqua, un fazzoletto E lei mi risponde scocciata e mi dice no voglio restare sola Tipo vai via non mi ricordo esattamente cosa mi ha detto Allora io cos'è che faccio? Molto astutamente Le rispondo, l'ho detto in dialetto bergamasco, ve lo dico in italiano Poi ve lo dico anche in bergamasco però in italiano me lo capite Gli rispondo ti sta bene che ti ha lasciato Prendiamo e ce ne andiamo Lei che piange ancora più forte Il mio collega, che è lo stesso cameriere di prima, sempre noi eravamo All'inizio ci rimane un altro e dice ma cosa è successo? Poi appena realizza che gli ho detto ma ti sta bene che ti ha lasciato Scoppia a ridere e noi ce ne andiamo così Perché l'abbiamo aiutata tre volte, due o tre volte l'abbiamo preso nel culo Il mercoledì sera c'è una serata particolare E ci sono tre ragazze Ragazze immagine che ci aiutano a portare le bottiglie ai vari tavoli Quando le dobbiamo fare A meno per fare un po' più di scena Deve portare una bottiglia a un tavolo Una volta uno si mette a gridare Ehi vergine, brava E un'altra volta, cos'è che hai detto? Uè splendore, uè bellezza Una roba del genere ma gridando fortissimo L'ho sentito io che ero lontano tre metri E poi nulla, queste qua sono le cose che mi sono successo un po' assurde In questa settimana collaborata in discoteca Questa sera, dato che sto registrando questo video di sabato C'è una serata che si chiama Zorro Night Solo il nome Zorro per chi non lo sapesse vuol dire Tamarro Una serata bellissima A me piace troppo ma è ignorantissimo Quindi ci saranno di certo delle cose Che vi racconterò nel prossimo video Quindi io vi ringrazio per la visione Lasciate like se vi è piaciuto Commentate, iscrivetevi al canale Se ancora non l'hai fatto E noi ci rivediamo ad un prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti